3 milioni di euro per incentivare le PMI ad investire in ricerca industriale e sviluppo sperimentare per aumentare competitività e capacità innovative. Sono gli scopi di un avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore all'attività produttiva Marcello Pittella. L'iniziativa, spiega l'assessore Pittella, è per favorire azioni di cooperazione interaziendale che possano contribuire all'integrazione nei programmi di ricerca, di obiettivi, di interesse comune a fine di ampliare le opportunità di occupazione qualificata sul territorio regionale. Per tale motivo sono ritenute prioritarie quelle iniziative che riescono a potenziare i legami tra offerta regionale ed extra regionale di ricerca e sviluppo e domanda di innovazione del sistema produttivo. I beneficiari sono le PMI con sede in Basilicata che presentano un progetto di ricerca con elementi innovativi nei processi in atto tali da migliorare le prospettive di mercato e le performance produttive. L'avviso regionale, gestito dal sviluppo Basilicata, prevede aiuto in conto capitale. Il contributo massimo a ciascun programma è di 350.000 euro, di cui al massimo 150.000 per progetti di ricerca industriale ed al massimo 200.000 per progetti di sviluppo.